Sant'Anna, la madre della Vergine, di nuovo festeggiata in una contrada che si riappropria di un patronato che rischiava di scomparire nell'oblio. Accade in contrada Sant'Angelo ad Altino dove grazie ad un'associazione dal titolo emblematico Radici tutta la comunità si è stretta nuovamente attorno al culto per Sant'Anna, titolare di svariati patronati quasi tutti legati a Maria poiché portò nel suo grembo la speranza del mondo. La onorano le partorienti, le donne desiderose di maternità, le madri di famiglia, le ricamatrici e le lavandaie che si astenevano nel giorno della sua festa dal loro lavoro che Anna stessa aveva, secondo la leggenda, esercitato. La madre della Vergine non riusciva ad avere figli e così chiese a Dio di esaudire l'implorazione di averli. Durante la preghiera le apparve un angelo che le annunciò Anna, il Signore ha ascoltato la tua preghiera e tu partorirai e si parlerà della tua prole in tutto il mondo. Passarono nove mesi ed ecco che nacque Maria. Grande festa, Sant'Angelo, solenne processione, preghiere e libagioni, la comunità che vive di luce propria. Guido pace dell'associazione Radici. Abbiamo dopo la messa fatto la processione per le vie della contrada con una bella partecipazione di tutta la contrada e qui voglio ringraziare tutte le famiglie che hanno partecipato e hanno onorato il nostro santo. Ritorno alle radici per tutti i gusti con l'occasione propizia per rivivere anche lo sticchio gioco povero ma appassionante. Delle pietre scelte per la loro forma accuratamente, delle monete e un mattoncino rettangolare appunto lo sticchio bastano per gare nelle strade del paese. Il giocatore di turno posizionato dietro una linea apposta a qualche metro dal bersaglio lancia una pietra tentando di colpire lo sticchio e far cadere la moneta che vi riposa sopra. Vince ovviamente chi ci riesce. Gioco semplice. Ci rivediamo un po' giovani insomma, dai, così, ci divertiamo così. Oggi andiamo anche a pranzo insieme e ci divertiamo così, con poco. Grazie. Ha colpito lo sticchio molto forte e l'ha regalato all'avversario che sta più vicino allo sticchio. 25. Purtroppo così è il gioco. Chi si piazza riceve. Eccolo qua. Buono. Tutti al venti. Bel tiro. Stavolta. Stavolta sì. Andava sempre un po' solta. Adesso andrete. Ciao. 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 Ciao.